Eccoci in diretta, come promesso oggi parliamo di attualità partendo da un livello nazionale poi ci spingeremo fino a trattare temi di rilevanza internazionale. Vedete già alle mie spalle alcune immagini che fanno riferimento ad un'iniziativa di lega ambiente circolosperone di San Giovanni Rotondo che ha legato la fine del 2022 con i primi giorni di questo 2023. L'iniziativa di cui lega ambiente circolosperone in San Giovanni Rotondo si è fatta portatrice e 5 minuti per salvare il mondo. Una iniziativa di sensibilizzazione alla tutela all'ambiente che ha avuto luogo nelle scuole elementari di San Giovanni Rotondo e che è stata attenzionata da lega ambiente nazionale, tanto da vedere la presenza del presidente nazionale di lega ambiente Stefano Ciafani. Noi abbiamo intervistato il presidente della sezione locale di San Giovanni Rotondo Antonio Tortorelli e il presidente nazionale Stefano Ciafani per cui prego la regia di inviare questo contributo video. Allora, 5 minuti per salvare il mondo è un progetto ideato dai soci del nostro circolo l'ospedale di San Giovanni Rotondo, in cui noi diamo 5 punti fondamentali ai ragazzi non spiegare acqua, non spiegare energia, facciamo la raccolta differenziata, riutilizziamo i materiali, piantiamo un albero e andiamo a piedi a scuola, facciamo attività motorica. Questo proprio per far capire ai bimbi che sono veramente 5 punti fondamentali, 5 minuti come l'abbiamo chiamati noi. Ogni giorno mettendo in pratica questi piccoli accorgimenti si fa veramente la differenza. Abbiamo chiesto ai ragazzi di darci loro delle idee a noi, perché noi ormai non ne abbiamo più. Loro ci hanno risposto con dei temi, con dei disegni, con delle poesie, con dei fumetti veramente entusiasmanti. Oggi noi siamo qui, insieme al Presidente Stefano Ciafani, a ringraziare, ad omaggiare il lavoro di questi piccoli ragazzi. Presidente, in questi anni il lavoro in lega ambiente è stato incomiabile, c'è ancora tanto da fare, però queste piccole iniziative dal basso ci danno una misura di quanto il lavoro che è stato fatto finora sia stato fondamentale. Che cosa ci aspetta nel 2023? Beh, sarà un anno in cui dovremo mettere in cantiere tutti quegli impianti, quelle opere, quelle infrastrutture che servono a praticare la transizione ecologica, tanto si è parlato negli ultimi anni. Per farlo però non bastano solo le pressioni che si fanno magari sul governo nazionale, sui governi regionali, sui governi cittadini. Serve anche per valare il campo, garantire il terreno fertile e fare in modo che queste opere poi vengano realizzate. L'iniziativa che facciamo con i nostri circoli sul territorio sono tutti i tasselli del mosaico più grande che stiamo costruendo e fare iniziative nelle scuole, come questo bel progetto del circolo di San Giovanni Rotondo, fatto nelle scuole elementari. Oltre agli altri progetti che stiamo facendo in questo territorio, è il modo migliore per convincere anche la comunità territoriale che oltre a chiedere le cose, poi bisogna fare in modo che le cose si facciano. E per farlo bisogna garantire che ci sia quella coesione sul territorio per fare in modo che tutti gli impianti e tutte le infrastrutture che servono non siano contestate, che è una cosa che succede dappertutto e che noi dobbiamo assolutamente evitare perché la transizione ecologica si fa passando per i progetti migliori sul territorio. Basta veramente poco per dare il nostro contributo a tutela dell'ambiente, 5 minuti per salvare il mondo è un'iniziativa nata proprio per restituirci questa consapevolezza. Piccoli gesti quotidiani come lo spegnere la luce quando non ci serve, interrompere il flusso d'acqua corrente quando non la stiamo utilizzando, che possono aiutare il nostro ambiente a tirare un respiro di sollievo. Parlarne con i ragazzi delle scuole elementari è stato molto bello perché i responsabili del progetto ci hanno detto come i bambini siano stati molto attenti reattivi nel rilanciare anche nuove iniziative, altre iniziative a tutela dell'ambiente per farsi portavoci e ambasciatori appunto di queste buone pratiche a tutela dell'ambiente. In un momento storico in cui il tema della tutela ambientale è molto alto anche perché i cambiamenti climatici in corso ci fanno riflettere su quanto sia importante anche gestire, non solo tutelare l'ambiente ma anche gestire al meglio le risorse che abbiamo.